ciao a tutti bentornati sul mio canale sono zio ivan e sto giocando con sonic the hedgehog 2 ho appena trovato tutti quanti gli smeraldi del caos posso trasformarmi in supersonic ho visto quello che si deve fare quindi continuiamo diciamo che da questo momento il difficile è fatto casino knight per trasformarmi in supersonic sono andato a leggere mi servono come avevo immaginato 50 cristalli dai questi cristalli 50 anelli e poi sembra che sia sufficiente saltare quindi vediamo un po come funziona appena sarà possibile proveremo siamo in una zona molto bella tra l'altro con un fondale spettacolare molto animato cosa ho preso non lo so ma è comunque una zona mio dio spero che non si che non si vada di sotto ho fatto tanti punti mi avete detto che è addirittura possibile guidare tails in qualche modo no mi sa che è male no non lo so cosa sia successo ma io sto cercando di recuperare qualche qualche anello ma la vedo molto difficile qui aiuto voglio andarmene da questo flipper maledetto mi piacciono i flipper ma qui questo ci da punti ok però non basta voglio uscire da qui mannaggia ok spero di non andare in qualche burrone tutta sta fatica muoio qui no però in compenso troviamo due anelli ah credo che robotnik mi abbia tolto gli anelli quando mi attaccava vabbè non ci interessa più di tanto intanto ce ne sono altri due qui si muore vero no però ho rischiato di andare a sbattere su queste punte vediamo se vado oltre nada de nada ok proseguiamo ormai è semplicemente una corsa all'arrivo sicuramente ci saranno bei posti da visitare belle cosine da fare ma ora che non ho più la spada di damocle dei degli smeraldi del caos gioco veramente tranquillo e rilassato eppure se dovessi perdere qualche vita neanche me ne importerà più di tanto ok grazie a chi mi ha dato questo consiglio quindi possiamo guidare tails in questo modo fantastico grazie mille se l'avessi saputo prima chissà quante cose avrei potuto provare a fare che è questa cosa non lo so ma possiamo arrivare in luoghi che prima potevo soltanto sognarmi probabilmente questa cosa era possibile farla anche sul primo sonic una volta usato tails qui intanto siamo saliti abbiamo trovato altri anelli oh cos'era quel coso qualcosa che mi respinge e io lo supero ok tails vi è ehm tails tails portami sopra e fammi vedere oh mi sono sia stancato ok ma quanto può essere figa questa cosa oppla questi sono i respingenti dei flipper dei pinball ok vogliamo giocare e allora giochiamo che poi penso sia qui che sia nata l'idea del flipper di sonic del sonic pinball ok abbiamo anche una protezione la protezione cos'è dobbiamo abbattere questi respingenti va bene proviamoci ehm c'è da dire che è sicuramente molto incasinata questa sezione lì c'è qualcosa l'ho vista ok vita extra attenzione ehm se distruggo questi con tails che mi aiuta ok tails forza andiamo su vediamo cosa c'è qui oh anelli grande anelli e molti respingenti e questo blocco niente ah potrei trasformarmi in super sonic ci proviamo mi avete detto che bisogna semplicemente saltare ok non è così che ci si trasforma in super sonic forse in seguito a qualche azione particolare ragazzi non ne ho idea e se vado giù rischio la morte però noi andiamo di qua vai wow figo un lanciatore vai bello oh mio dio invincibili prendiamo anche quest'altra scatola e andiamo vai di corsa maledetto oddio mio dove sono andato vai non credo di aver mai avuto così tanti anelli ora che non mi servono più vi rendete conto del oppa no ho sbagliato qui c'è qualcosa oltre a tanti anelli ok abbiamo finito il livello con 142 anelli e ancora non sono riuscito a trasformarmi in super sonic mannaggia vai vai altre tre monete più un'altra quindi tutto in discesa casino night zona 2 dai che chip no 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 gli anelli li voglio prendere a prescindere peccato vediamo un po' tails portami su cosa c'è da queste parti tails qui sopra nulla va bene scendiamo e andiamocene oh c'è quello ah c'erano anelli bella per te io me ne vado di qua e tanti saluti baci a braccia ai pupi uh la cos'è questa roba non lo so mi terrò la curiosità proseguiamo si è decisamente incasinata come zona ho rischiato veramente di venire tranciato e ho perso tanti anelli forse wow grande qui cosa c'è nada oh oh vai proseguiamo di qua no sotto bene prendiamo un ascensore è tutto illuminato veramente veramente bello questo livello tanto incasinato quanto bello torniamo giù aspetta non ho ben capito oh si sale non so se era un passaggio segreto di qualche sorta ma 10 20 e 30 anelli e vita in più gnom hai il naso ok ce ne voleva di in corsa qui vai vai proseguiamo checkpoint che ormai oh mamma non ci conduce praticamente da nessuna parte quindi lo superiamo serenamente e proseguiamo finirà attimo un po' questo livello wow su aia non ce la farò mai ad andare qui sopra e andiamo sotto oh mio dio tail tails e vai altri anelli ammazza 167 oh ragazzi non credo di aver mai avuto così tanti anelli in vita mia si però gradirei anche uscire no vediamo se è vero che robot eh si robotnik ci toglie una buona una buonissima parte di anelli che però ci riprendiamo dai andiamocene su voglio uscire chissà com'è il jackpot oh jackpot ok basta non vorrei che mi ricapitasse robotnik andiamocene da qui voglio andarmene da qui vediamo proviamo ad andare sotto sperando di non morire no meno male non sembrano esserci burroni in questa sezione cosa della quale sono assolutamente grato e qua 250 anelli ma vi rendete conto avevo letto che per diventare super sonic servissero 50 anelli ma io qua c'è una 270 potrei diventare sonic ultra istinto ma invece niente non c'è verso di diventare super sonic e intanto ero convinto di stare alla fine del livello porco cane c'è un boss ragazzi che cosa vuoi fare con quella pinza beh comunque lo stiamo danneggiando su questo non c'è dubbio attenzione che lancia quelle bombe quelle mine che dolore che dolore atroce dov'è ragazzi sto sto rischiando di morire ma vi rendete conto dopo questa gloriosa partita grande tails che continua a colpirlo nonostante tutto cerchiamo di prendere Ok siamo senza anelli ragazzi Praticamente sto morendo E' rischiosissima questa cosa Ok però lo abbiamo sconfitto Oh yes E dove vado adesso? Ah si è aperta la porta Ed ecco la capsula con gli animaletti Abbiamo completato un'altra sezione Con zero schifosissimi anelli Ma ce l'abbiamo fatta Come cavolo faccio a trasformarmi in super sonic Possibili Hilltop Ma che musica è? Bello però Hilltop quindi siamo Sulla cima delle colline In pratica Se vado lì non so se muoio Continuiamo e attenzione Alla lava Vada A questi Ok Lì sopra ho visto un trampolino Vediamo se anche qui possiamo accumulare Carica cinetica Aspettate Fatemi ci riprovare Uno Vai Due Come no Sì sì E oltretutto anche L'invincibilità Vai corriamo Non prima di aver preso questi anelli però Altra invincibilità Peccato che me la sono persa Eh vabbè Tails non adesso Oh Ma effettivamente potrei anche farmi Semplicemente trasportare da Tails a questo punto E però Sono entrato Talmente poco Nell'ottica che può trasportarmi Che non mi viene naturale Da notare che quella piattaforma Appena siamo arrivati Cade Prendiamo un po' di carica E andiamo Non è vero Ah ok sì Ok bastava semplicemente Mirare a sfondare Dai che siamo protetti E qui c'è della lava Piano Brutta cosa Dobbiamo fare attenzione È vero che abbiamo la protezione Però Però posso anche saltare da qui Quello ci cade in testa Vero? No Forse Vai Ancora un'altra vita E qui sopra? Tails Portami su No ma sa che non c'entro Peccato Sì che c'entro Aspetta No Non c'entro Vabbè Quel coso Non so se mi uccide Ma Evitiamo E via Ah Porca No Mio Dio Che colpo Ma voi siete scemi Voi siete scemi Oh Altro passaggio E invincibilità Approfittiamo Dai che si aprono tutte le porte Oh porca Sta salendo la lava Oh madonna mia Via 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 Lì c'era un checkpoint Non me ne frega niente Ok no Penso che Penso che siamo in salvo Dalla lava E abbiamo anche finito il livello Bene I cristalli li ho presi tutti Quindi E' comparsa la scritta Adesso Sonic Può diventare Super Sonic Perché non ci riesco Vediamo se Andiamo sopra Che figa questa cosa Mi si è aperto un mondo Abbiamo distrutto tutto E lì sopra ci posso andare Per ora no Come no Vieni qua Tails Grazie Portami su Oh si scivola Eh lasciami Tails Ma si Appena avrò raggiunto I 50 anelli Voglio Provare a fare E che cavolo aveva visto Cosa ho detto Appena raggiungo I 50 anelli Subito mi ha sentito Il gioco Comunque Appena riuscirò A prendere I 50 anelli Voglio provare Tutte le combinazioni Possibili Per cercare Di diventare Super Sonic Quante combinazioni Possono esistere Adesso mi pruda l'occhio Di qua Non ancora E porco Maledetto Schifo Niente ragazzi Non mi viene più Automatico Ho perso La cosa Aspettate Bene Restiamo qui Ecco Adesso si Ah Ma che si scelta Oh mio dio Fermola Brutto Cosa solo Dove sto Andando A sbattere Continuiamo a scendere Non so se sia Necessariamente una cosa buona Ma visto che troviamo anelli Non lo so dove sono andato a sbattere Occhio a quello Oh scudo Questo mi fa sicuramente comodo Porca vacca Stavo per cadere di sotto Oh mio dio Un'altra sezione con la lava No mi sa che qui dobbiamo andare sopra Se Trema tutto Non riesco a distinguere bene Ma Ok qui c'è una porta Speriamo che si apra Sì Ah Finito Ah Ecco Rischio Aspetta Di nuovo Ah ok Ci ha pensato Tails Siamo a 72 Anelli Adesso appena troverò Una piattaforma tranquilla Non qui Voglio provare Ecco tipo Qui Premendo Tenendo premuto su Premendo giù Cosa ho fatto No ragazzi Non mi diventa Super Sonic Che vedevo di Vabbè Tails Lasciami andare Checkpoint Che c'è qua Nulla che ci interessa Proseguiamo Dovremmo essere Quasi dal boss ormai Oh oh Sì Eh ho capito Tenzo Ma se tu lo colpisci Al posto mio Maledizione Tutta colpa tua Ok Ah no Maledizione Ok però L'abbiamo sconfitto E' stato facilissimo Vai Abbiamo Oh scusa Ecco Abbiamo completato Un'altra area Ragazzi Sonic Got Through Ax Abbiamo completato Questo mondo Figo Mystic game Oh mio dio Che paura ragazzi Siamo dentro una caverna Buia Fredda e tempestosa Tra l'altro Va bene Penso che per questo gameplay Possa bastare Mi fermo qui E vi do appuntamento Alla prossima volta Se vi sta piacendo Lasciatemi un like Iscrivetevi al canale Commentatemi E soprattutto Se qualcuno lo sa Mi dica Come faccio a trasformarmi In Super Sonic Maledizione Vi aspetto col prossimo video Ci vediamo Presto